Il terzo e il quarto tempo non sono stati come volevamo. Di solito è il quarto tempo che decide la partita e noi non siamo state incisive al punto giusto per vincerla. Sappiamo benissimo che è l'inizio del campionato e comunque abbiamo altre partite, però ci mancava quella grinta che forse abbiamo dato la scorsa settimana e questa no. Segnali positivi? Sì, il primo e il secondo tempo sì. Abbiamo ben lavorato in difesa, non abbiamo preso quei soliti contropiedi che i nostri abituali, però in attacco non siamo state incisive e soprattutto non abbiamo avuto quella voglia di vincerla alla fine che poi ovviamente loro hanno avuto e questo è stato il risultato.